Buongiorno e benvenuti alla rubrica delle frasi motivazionali. Ogni lunedì mattina alle ore 8 e 30 una dose di ispirazione per iniziare la settimana con il piede giusto. La poesia di oggi è dell'autore padre Faber che ci incoraggia a essere agente di cambiamento positivo nelle vite degli altri nel mondo in generale attraverso un piccolo gesto. Scopritelo con me. La poesia è un sorriso non costa nulla e produce molto. Arricchisce chi lo riceve senza rimpoverire chi lo dona. Non dura che un istante ma nel ricordo può essere eterno. È il segno sensibile dell'amicizia profonda. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno e nessuno è così povero da non meritarlo. Un sorriso dà riposo alla stanchezza e allo scoraggiamento rinnova il coraggio nella tristezza e consolazione. Un sorriso è un bene che ha valore dall'istante in cui si dona. Se incontrerai chi il sorriso a te non dona, sii generoso e dà il tuo perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso come chi non sa darlo. Le parole ci rivelano un concetto importante. Nel ritmo frenetico della vita quotidiana spesso ci dimentichiamo del potere di un sorriso. Un sorriso, come afferma la bella poesia, non costa nulla ma produce molto. È uno dei gesti più semplici e potenti che possiamo fare. Non costa nulla, richiede un minimo sforzo fisico e può avere un impatto straordinario sulla nostra vita e sulla vita degli altri. Il potere del sorriso va ben oltre l'apparenza, è una forza che può migliorare il nostro benessere emotivo, sociale e persino fisico. Vediamo come un semplice sorriso può avere un impatto positivo sulla nostra vita e su quella degli altri. Il sorriso, come linguaggio universale, supera le barriere culturali e linguistiche. In qualsiasi parte del mondo, un sorriso è generalmente interpretato come un segno di gentilezza, amicizia e accoglienza. Quando sorridiamo, comunichiamo il nostro stato d'animo positivo agli altri e li invitiamo a rispondere positivamente. Questo gesto può fare la differenza nella giornata di qualcuno e contribuire a creare un legame profondo tra le persone. Il sorriso, come eterno ricordo, un sorriso può essere effimero, ma il suo impatto dura a lungo. Le persone ricordano le emozioni positive associate a un sorriso. Questi ricordi possono essere un faro di luce nelle giornate buie, un sostegno nei momenti difficili e una fonte di ispirazione quando serve un po' di incoraggiamento. Il potere del sorriso sulla salute mentale. Sorridere non è solo una manifestazione esterna di felicità, può anche influenzare positivamente la nostra salute mentale. Quando sorridiamo, il nostro cervello rilascia endorfine, sostanze chimiche associate alla sensazione di felicità e benessere. Questo può alleviare lo stress, migliorare l'umore e persino aiutare a ridurre i sintomi della depressione. Inoltre, può influenzare il modo in cui percepiamo il mondo. Quando sorridiamo, tendiamo a concentrarci su pensieri positivi e a vedere il lato luminoso delle cose, anche nelle situazioni difficili. Questa prospettiva ottimistica può migliorare la nostra resilienza e la nostra capacità di affrontare le sfide della vita. Il segno sensibile dell'amicizia profonda. È un modo di comunicare senza parole che siamo aperti, amichevoli e pronti a condividere momenti felici con gli altri. Un sorriso può essere un ponte verso nuove amicizie e un segno di gratitudine verso quelle già esistenti. Quindi, se incontri qualcuno che sembra incapace di sorridere, sii generoso e dona liberamente il tuo sorriso. Potresti essere la luce nella loro giornata. Come dice la poesia, nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come chi non sa darlo. La tua gentilezza può ispirare un ciclo virtuoso di sorrisi che si diffondono nel mondo. Quindi, sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e inizia con un semplice sorriso. Io ti saluto affettuosamente e ti invio un caloroso sorriso perché il mondo è un posto migliore quando condividiamo la gentilezza e la gioia. Ti invito gentilmente a condividere i tuoi pensieri ed emozioni riguardo a questa poesia nei commenti qui sotto. Fammi sapere cosa ne pensi. Sono curiosa di scoprire come queste parole hanno toccato il tuo cuore e quali significati hai trovato in esse. Per non perdere le novità letterarie e scoprire altre parole motivazionali, ti invito ad iscriverti al canale e a condividere questo video con le persone che conosci perché ogni condivisione ha il potere di raggiungere cuori e menti diverse, portando speranza e incoraggiamento a chi ne ha bisogno. Un caro saluto e grazie.